Dopo 12 anni il quartiere della cittadella di Ancona si riappropria della scuola primaria Carlo Antonini. Chiusa nel 2012 è stata inaugurata la vigilia dell'anno scolastico 2024-2025. È colorata e si affaccia sul verde. Le aule sono pronte ad accogliere alunne ed alunni, che curiosi aprono porte ed armadietti. Tra di loro c'è chi si avvicina al sindaco per parlare e stringergli la mano. Adeguamento sismico ed efficientamento energetico sono state le priorità dell'opera ingegneristica. I cui costi dei lavori sono stati possibili grazie a fondi PNRR. È importante per la comunità, non solo quella scolastica, ma è un'opera che riqualifica un intero quartiere. Sono 3 milioni e mezzo di euro destinati all'efficientamento energetico, alla manutenzione antisismica. Questo ci consente di dare agli studenti e soprattutto ai genitori la sicurezza che i propri figli arrivino a scuola e possano svolgere le proprie attività scolastiche in totale sicurezza con una struttura così assolutamente all'avanguardia. Il corpo docente è entusiasta di iniziare e i bambini sono felici di andare nella nuova scuola per lezioni negli spazi immacolati. Un'euforia che è un buon punto di partenza. Credo che questo sia l'essenziale perché la scuola è fondamentalmente per loro e per i nostri alunni. Il percorso scolastico di scuola primaria costituisce un momento fondamentale dell'istruzione di un bambino. I ricordi che i nostri bimbi vivranno in questi 5 anni di scuola primaria rimarranno per sempre impressi nei loro ricordi. Io ancora conservo i ricordi di quando ero bambina e frequentavo l'allora scuola elementare. Grazie.